Pensiero del giorno. Trovo il lato positivo in ogni relazione e situazione. Invece di giudicare me stesso o gli altri, guardo tutti con compassione, imparando le lezioni degli eventi ricorrenti, spezzo gli schemi negativi. Trova il lato positivo. Oggi ci concentriamo su come prevenire la creazione di legami negativi. In ogni circostanza che sembra provocare dolore, tu puoi percorrere la strada della pace chiedendoti qual è il lato positivo di questa situazione? Il tuo io superiore ti risponderà sempre. Ogni evento e rapporto ti offre l'opportunità di crescere, imparare e guarire. Cresci compiendo azioni che ti fanno sentire bene come dire la verità, stabilire i tuoi confini o vedere ogni cosa con gli occhi dell'amore. Impari trovando lo schema ricorrente degli eventi che hai vissuto. Per esempio, potresti imparare come essere paziente, compassionevole o forte in queste situazioni. Guarisci attraverso la tua disponibilità a perdonare te stesso, gli altri e la situazione, liberandoti dall'energia corrosiva della rabbia. Oggi si è aperto a trovare il lato positivo di qualsiasi situazione. È come raccogliere fiori per farne un bellissimo buquè.